Questa presentazione è trasmessa grazie agli amici del Ministero di Amazing Facts. Uno dei suoni più forti che il mondo abbia mai udito è stata la terribile esplosione vulcanica del Krakatoa nel sud ovest dell'Indonesia nel 1883. Lo scoppio equivaleva a circa 100 megatoni di TNT e si riuscì a sentire a 5.000 miglia di distanza sulle isole dell'oceano indiano. Più di 36.000 persone furono uccise e 165 villaggi della costa distrutti, soprattutto per l'onda di tsunami alta a 40 metri che arrivò a quasi 500 chilometri all'ora. Devastò tutto quello che c'era nella sua traiettoria, staccando enormi blocchi di corallo e portandoli a riva. La tremenda esplosione lanciò anche nell'atmosfera 8 chilometri cubi di detriti, creando una nuvola di polvere che bloccò la luce del sole, raffreddò il clima e per alcuni anni produsse tramonti rosso brillante che furono così intensi che la gente spesso pensava ci fosse un incendio all'orizzonte. L'eruzione del Krakatoa fu uno degli eventi visibili più rumorosi e potenti dei tempi moderni. Ma sapevate che nel libro dell'Apocalisse la seconda venuta di Gesù è raffigurata in modo persino più rumoroso? Si dice che ci sarà una tromba, un ruggito e un ritorno. Quindi seguitemi mentre diamo un'occhiata più da vicino a quello che dice davvero la Bibbia sul ritorno di Cristo. Quindi il nostro studio di oggi parla di quando tornerà il re e parleremo di alcuni dei segni dell'avvenuta di Cristo. Non vi daremo una data per il ritorno del Signore, ma parleremo di alcuni degli equivoci nel mondo cristiano riguardo a come Gesù tornerà, perché questo porterà molte persone a essere profondamente ingannate. Quindi dobbiamo capire questo argomento. Prima domanda. Quale solenne avvertimento dà Gesù sulla seconda venuta? Poiché molti verranno nel mio nome dicendo io sono il Cristo e ne sedurranno molti. Ora questo versetto può essere inteso in un paio di modi diversi e ancora essere corretto. Alcuni verranno e diranno di essere Gesù e poi ci saranno quelli che verranno e diranno lui è Cristo, ma inganneranno, la gente. Molti verranno, verranno nel suo nome, diranno che è Cristo e poi inganneranno. E poi ci saranno alcuni che verranno e diranno io sono Cristo. E Satana impersonerà Gesù negli ultimi giorni. E potete leggere che poi si dice perché sorgeranno falsi Cristi e falsi profeti e faranno grandi segni e prodigi. Ora, non sono così preoccupato per gli eccentrici che diranno di essere Gesù. Probabilmente ce ne sono migliaia nel mondo oggi. Ho visto un programma di National Geographic su mezza dozzina di persone nel mondo che hanno un piccolo gruppo di seguaci e affermano di essere Gesù. Ce n'è uno in Sud America, uno in Europa e in altri luoghi e hanno i loro seguaci. Ho incontrato uno che diceva di essere Gesù. È stato un po' fastidioso perché vivevo da solo sulle montagne in una grotta e quel tipo si è arrampicato fino al cortile della mia grotta. Avevo un cortile e voglio dire è salito su per le rocce ed è arrivato nel mio cortile. Era alto circa due metri. Aveva capelli marroni fino alle spalle, occhi nocciola, i baffi e la barba. E sono stato amichevole. Mi sono seduto, abbiamo parlato un po'. Nel corso della conversazione mi ha chiesto se fossi credente. Gli ho detto beh sì, ho appena letto la Bibbia, ho appena accettato Gesù e mi ha detto io sono Gesù. Non ero sicuro di aver sentito bene quando mi ha detto io sono Gesù e poi ho pensato beh ho degli amici spagnoli che si chiamano Gesù. Ho detto intendi dire che ti chiami Gesù? Mi ha detto no, io sono Gesù. Ed è stato un po' un problema perché ho pensato questo tipo è pazzo e io sono qui tra le montagne da solo. E poi ho pensato beh non voglio dirgli che è pazzo perché se fosse davvero Gesù? Mi piacerebbe saperlo, ho moltissime domande. E quindi ho iniziato a dirgli beh ora non si dice nella Bibbia che quando vieni tutti vedranno la tua venuta tra le nuvole? Mi ha detto quello è come vengo per il mondo in generale ma vengo prima per certe persone e aveva una risposta per tutto. Cercava di reclutarmi come suo discepolo. Quindi l'ho assecondato per qualche giorno, sapete sono stato gentile, è rimasto con me, si è mangiato tutto il mio cibo, era un maiale, non puliva nulla e alla fine ho dovuto cacciare Gesù dalla mia grotta. Alcuni giorni dopo l'ho visto in città e aveva trovato un apostolo, stava andando in giro. Mi sono sentito molto meglio circa due settimane dopo quando l'ho rivisto e aveva fatto una rissa con qualcuno e gli avevano rotto il dente davanti e tutti sappiamo che Gesù aveva tutti i denti. Quindi per me è stato a posto così. Mi sono sentito molto meglio a quel punto. Quindi non mi preoccupo per le persone eccentriche ma quando Satana impersonerà Cristo sarà molto convincente. Ci sarà un potere emotivo e ci saranno segni e prodigi. E citerà la Bibbia. Cosa eviterà ai giusti di essere ingannati? Si legge in Isaia 8 versetto 20 e nella Bibbia, attenetevi alla legge e alla testimonianza. Se un popolo non parla in questo modo è perché in esso non c'è luce. Dovremo giudicare tutto secondo la parola di Dio. Ecco perché vi ho detto che dobbiamo davvero conoscere la Bibbia. Perché Gesù ci dice che l'inganno sarà così convincente che se possibile persino gli eletti saranno ingannati. Quindi dovremo attentamente essere radicati in quello che crediamo. Beh se avete sentito qualcuno in giro dire di essere Gesù è sicuro andare a vedere? No. Cosa dice il Signore? Dice in Matteo 24 versetto 26 se dunque vi dicono ecco è nel deserto non vi andate. Non guardate nemmeno. Ehi girate su canale 13. Gesù è appena apparso a Gerusalemme. Non girerei nemmeno. Perché il diavolo sa ipnotizzare. E sapete si ipnotizza una persona con i nervi uditivi e visivi. I nervi ottici e auricolari. E la televisione raggiunge entrambi. E ora ci sono le tv ad alta risoluzione. Diventano 3D. Voglio dire sono molto potenti. Non fatelo. Cosa sappiamo dell'ora del ritorno di Gesù? Ora voglio passare un po' di tempo su questa domanda in modo da essere a mio agio perché voglio chiarire alcune cose. Prima di tutto riguardo al tempo specifico della sua venuta Gesù non si può equivocare. Quanto poi a quel giorno e a quell'ora nessuno li conosce. Questo dovrebbe mettere a posto tutti. Quindi se qualcuno viene da voi e dice beh so che la maggior parte non lo sa ma verso la fine lo scopriremo. Ho fatto dei calcoli e non so il giorno e l'ora ma so il mese. Ho sentito ogni genere di cose strane. Perché dovreste cercare di indovinare il giorno? Aspetterete l'ultimo minuto per prepararvi? Ha detto che tornerà. Potrebbe venire per voi domani. Perché se morite il vostro prossimo pensiero consapevole sarà la resurrezione e quindi dobbiamo prepararci quando? Gesù ha detto di essere sempre pronti così che quel giorno non vi sorprenda come un ladro. E molte persone sono già state sorprese come un ladro. E quindi dobbiamo essere pronti. Alcuni di voi ricordano Harold Camping di Family Radio. Gli ho parlato una o due volte alla radio. In realtà Amazing Facts l'ha intervistato poco prima che morisse perché aveva stabilito una data. E sapete penso fosse sincero ma si sbagliava. Molte persone hanno dato tutto quello che avevano hanno investito nel suo ministero per avere la certezza che Gesù venisse. Quando? Il 21 maggio 2011. E ovviamente non è successo. Era la seconda o terza volta che aveva predetto il giorno e l'ora della venuta del Signore. E sapete una cosa? Ho una sorpresa per voi. Ogni pastore ed evangelista che ha scelto una data per la venuta del Signore finora si è sbagliato. Vi rendete conto? Sto parlando di date passate. E quindi non vorrete percorrere quella strada. Ma anche se non sappiamo l'ora e il giorno possiamo sapere quando è vicino. Amen. Sì, Gesù è piuttosto chiaro. Matteo 24 versetto 33. Quando vedrete tutte queste cose sappiate che Egli è vicino, anzi alle porte. Ci saranno segni che ci faranno capire che è vicino. E quali sono alcuni di questi segni? Beh, ce ne sono un paio. Prima di tutto Gesù dice in Matteo 24 che ci saranno guerre e rumori di guerre. Beh, abbiamo sentito di guerre in tutto il corso della storia. E di sicuro ora ci sono rumori di guerre. Sapete, un piccolo fatto sorprendente per voi, che nel mondo si spendono più di 100 milioni di dollari all'ora per soldati, munizioni e macchine da guerra. Non ne vorreste avere una piccola parte? 100 milioni di dollari all'ora per spese militari internazionali. La Bibbia dice che ci sarà instabilità politica. I cuori delle persone cederanno per la paura. I mari e le onde ruggiranno. E lo vediamo ora. C'è così tanta volatilità e instabilità politica. E problemi in Medio Oriente ci sono da anni. Gesù ha detto che ci saranno pestilenze, piaghe e vari tipi di malattie. E tutti sappiamo della crisi di Ebola che c'è stata poco fa. Ma sapete, penso davvero che il mondo debba essere preoccupato di quando verrà una piaga semplice come l'influenza. Sapete che durante la prima guerra mondiale quello che ha ucciso il maggior numero di persone non sono state le battaglie, e furono brutali, della prima guerra mondiale, ma l'epidemia di influenza che nel 1918 uccise 40 milioni di persone quell'anno. E ora dicono che ci sono i requisiti per un altro ceppo resistente alle cure, che possiamo diffondere con i viaggi internazionali. Si può prendere un aereo in una piccola scatola di latta con tante persone, ed è difficile non prendere qualcosa e trasmetterlo ovunque. Non mi preoccupo di queste cose, sto solo dicendo che sono alcuni dei segni. Ha detto che ci saranno piaghe, ci saranno disastri naturali. Tra il 2004 e il 2014, sono dati della società americana di geologia, ci sono stati 18 terremoti di magnitudo 8 o più o movimenti delle zone di subduzione nel mondo. C'è stato un aumento del 265% rispetto alla media del secolo precedente, e quindi c'è stata un'accelerazione dei problemi. Ora, prima di proseguire oltre, lasciate che vi dica perché questi segni sono importanti. Abbiamo sempre avuto delle guerre, ci sono sempre state delle piaghe, c'è stata la peste nera, ci sono stati problemi ambientali, ci sono stati, sapete, i terremoti e i disastri innaturali. Ma il Signore dice che saranno come le doglie del parto. Paolo si riferisce a tutta la creazione che si lamenta e travaglia, fa un paragone con la nascita. Ora, abbiamo cinque figli, sette nipoti. So qualcosina di come funziona. La moglie dice, sento un po' di dolore. Correte in ospedale e sentite dire quanto sono distanti. Più o meno un giorno o due vi dicono, tornate a casa, sono le contrazioni di Braxton X. Non significano nulla, il corpo si sta solo preparando. Ma alla fine quei dolori iniziano e chiedono quanto sono distanti, quanto sono forti. Man mano che aumenta la frequenza e l'intensità, sapete che alla fine ci sarà la nascita. E quello che vediamo nel mondo non può essere negato con tutti questi problemi. C'è un aumento di intensità e frequenza che ci dice che la venuta del Signore avverrà presto. Un altro problema è quello che sta accadendo all'ambiente. Metà delle specie selvagge del mondo, secondo il National Geographic, si sono perse negli ultimi 40 anni. Riuscite a immaginare? Metà delle specie selvagge si sono perse in 40 anni. La Bibbia dice che ci sarà violenza negli ultimi giorni. Si dice come ai tempi di Noè, in cui la malvagità degli uomini era grande sulla terra e tutti i disegni dei pensieri del loro cuore non erano che malvagi. Ogni giorno muoiono più giovani americani nella violenza tra gang che nelle guerre all'estero. La statistica è vera da molti anni. Gesù ha detto lo stesso avvenne anche ai giorni di Lot. Così sarà nel giorno in cui il figlio dell'uomo sarà manifestato, intendendo dire che ci sarà un'immoralità pazzesca. Non so se alcuni di voi sanno che c'è un sito che incoraggia le persone ad avere una scappatella. Dice la vita è breve, fate una scappatella. Notate che la ragazza ha una fede noziale e qualcuno ha violato il loro database. Affermavano di avere 56 milioni di utenti nel mondo. È molto triste. Dicendo che lo avrebbero pubblicato se non avessero chiuso il sito. Non hanno chiuso il sito e molti dei dettagli di queste persone, che avevano delle scappatelle o volevano averle. Allo stesso modo Gesù ha detto lo stesso avvenne anche ai giorni di Lot. Così sarà nel giorno in cui il figlio dell'uomo sarà manifestato. E penso che tutti sappiamo che uno dei signi in Lot è che avevano difficoltà a capire che Dio aveva fatto gli uomini e le donne diversi. Sono solo io a pensarlo o abbiamo un problema simile nel mondo oggi? Notate che sto cercando di stare attento a come lo dico. Ma la Bibbia è piuttosto chiara e ora non è solo... potete identificarvi con quello che volete, non è solo che dite voglio identificarmi come uomo o mi identifico, mi identifico come qualcosa che sta in mezzo. E ci sono le patenti di guida dove ci sono, sapete, 50 opzioni diverse per la vostra identità sessuale. Mi spiace, ma Dio ne ha fatte due. E così è. Il sovrappopolamento. Ci sono voluti 5.000 anni per arrivare al primo miliardo di persone sulla Terra. Poi ci sono voluti solo 130 anni per arrivare al secondo miliardo. Poi ci sono voluti 30 anni per arrivare al terzo miliardo, 15 anni per arrivare al quarto miliardo. Ricordo quando eravamo 3 miliardi, ora stiamo arrivando quasi a 8 miliardi di persone. Sapete, anche per me uno dei segni più sconvolgenti della venuta di Gesù si trova in Daniele capitolo 12. Si dice, ma tu Daniele tieni nascoste queste parole e sigilla il libro fino al tempo della fine. Molti andranno avanti e indietro. E la gente va avanti e indietro. Il giornale del National Geographic un paio di anni fa ha scritto che la gente viaggia lontano da casa più che mai prima d'ora nella storia dell'umanità. E i viaggi internazionali, anche se ci lamentiamo, avvengono sempre di più. Tutti gli aerei su cui viaggio sono pieni. E ha detto, tornando a Daniele, e la conoscenza aumenterà. Guardate l'esplosione della conoscenza. Ora si può avere tantissima conoscenza e nessuna saggezza. La saggezza è sapere cosa fare della conoscenza. Si può avere conoscenza e fare una bomba atomica e non avere la saggezza per usarla. Quindi l'uomo di sicuro ha tantissima conoscenza. Non so se avete sentito dell'acceleratore di Hadron. Penso fosse sugli schermi poco fa. È l'esperimento più grande del mondo. Un tunnel di 28 chilometri tra la Francia e la Svizzera, 150 metri sottoterra. 10.000 scienziati che cercano di isolare e scoprire quello che chiamano il bosone di Higgs, la particella di Dio. Stanno cercando di capire come si è formato l'universo e hanno speso tantissimi soldi per cercare di capire, sapete, da dove venga tutto. E non ho tempo per passare in rassegna tutte le fantastiche invenzioni che sono state fatte nell'ultimo secolo. Alcuni di voi qui sono cresciuti con le luci al cherosene. E ci sono ancora persone che ricordano quando si andava a cavallo da un punto A a un punto B. Guardate come è cambiato il mondo in una generazione. Ma per me il segno più incredibile è in Matteo 24, versetto 14. Gesù ha detto e questo Evangelo del Regno sarà predicato in tutto il mondo in testimonianza a tutte le genti. E allora verrà la fine. La fine potrebbe venire? Verrà. Ha detto che la fine verrà. Il Vangelo viene predicato in tutto il mondo? Sì, mai prima d'ora. Voglio dire anche ora, mentre vi sto parlando, questa trasmissione va sul satellite, almeno su tre diverse reti satellitari, va su internet. Ci sono persone che ci guardano in Nuova Guinea e Australia, in Norvegia e in tutto il pianeta. E la Cina? Amazing Facts ha avuto il privilegio di essere il primo ministero cristiano di una qualsiasi denominazione a fare un incontro pubblico di evangelizzazione in Cina. Negli ultimi 59 anni e lo abbiamo registrato e spero che la Cina lo abbia fatto e che lo trasmetta in tutta la Cina. È stato tradotto. Quindi il Vangelo viaggia nel mondo. Abbiamo internet, abbiamo email da gente che dice che guarda il nostro programma nei paesi orientali. Dicono, non posso dire il mio nome perché se viene fuori la mia vita potrebbe essere in pericolo. Ma ci guardano. Il Vangelo si sta diffondendo in tutto il mondo. E quindi ecco perché penso che Gesù stia tornando. Non ha detto che tutti devono credere. Ha detto in testimonianza a tutte le genti e allora verrà la fine. Quindi ci stiamo preparando alla venuta di Gesù? Cosa faranno gli angeli alla seconda venuta di Gesù? La Bibbia dice i suoi angeli ed essi raccoglieranno i suoi eletti dai quattro venti, da un'estremità dei cieli all'altra. Significa da nord, sud, est e ovest. E li porteranno al Signore. Saranno rapiti insieme al Signore. Ora, visto che stiamo vivendo proprio prima della seconda venuta, come dovremmo relazionarci a questo evento glorioso e solenne? Egli ha detto perciò anche voi siate pronti perché nell'ora che non pensate il figlio dell'uomo verrà. Ho fatto un programma come questo nel 1999 e c'era la febbre del millennio e tutti pensavano che il mondo sarebbe finito con il 2000. Qualcuno se lo ricorda? Sì. Era la madre di tutti i falsi allarmi. Io ho conosciuto persone che hanno venduto tutto e si sono trasferite in Montana e sapete hanno vissuto di fagioli o quello che c'era e hanno tagliato le loro carte di credito e hanno detto dobbiamo disconnetterci dalla rete. Il mondo finirà col 2000. Tutti hanno pensato che sarebbe successo qualcosa. Potete ascoltare la mia vecchia registrazione. Ho detto non penso che succederà ora. Perché? Perché tutti se lo aspettano ora. Gesù ha detto perché nell'ora che non pensate. E a chi sta parlando? Alla Chiesa. Vedete che quando Gesù racconta le parabole sulla seconda venuta dice prima che accada molte persone dormiranno. c'erano dieci vergini. Cinque sagge e cinque stolte. Tutte addormentate. Vero? E poi lo sposo ha gridato che stava arrivando. Dovettero svegliarsi. Gesù ha detto ma se quel malvagio servo dice in cuor suo il mio padrone tarda a venire. Anche se lo dice nel cuore. E dormiremo nel momento critico. Cos'hanno fatto i discepoli poco prima della croce? Aveva detto loro pregate con me. Sono andati a dormire. Sulla montagna quando Mosè ed Elia sono apparsi e Dio ha parlato. I discepoli si addormentarono. Quindi Gesù ha detto Marco capitolo 13. Vegliate. 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 Come si veglia? Bisogna essere sobri. Bisogna essere vigilanti. Bisogna stare attenti a non appisolarsi. Avete una relazione con Gesù? Passate regolarmente del tempo con Lui. Fate tutto quello che potete. Prendete nota. Segnatelo sul computer. Fatevi un promemoria. Prendetevi del tempo per pregare. Prendetevi del tempo per leggere la sua parola. Prendete del tempo e condividete la vostra fede. E dovete studiare. Sapere quello in cui credete. Essere pronti a dare risposte a chiunque vi chieda la ragione della speranza che avete con mitezza e timore. Quindi come saremo ricompensati alla seconda avvenuta di Gesù? Ci saranno due gruppi. Il Signore dice ecco io vengo presto e il mio premio è con me per rendere a ognuno secondo le opere che Egli ha fatto. Cosa diranno i giusti quando verrà Gesù? Ecco questo è il nostro Dio. In Lui abbiamo sperato ed Egli ci salverà. Vivete per il Signore? Lo aspettate? Sapete alcuni anni fa un capitano, Scott O'Grady, stava volando sulla Bosnia durante la guerra e il suo jet fu abbattuto. Si paracadutò sul territorio nemico e sapeva che se fosse stato catturato, stavano facendo dei bombardamenti, sarebbe stato ucciso o torturato o entrambe le cose e quindi doveva nascondersi. Tagliò il paracadute, andò tra i cespugli, sapeva quando fu abbattuto che gli altri avevano visto il suo paracadute scendere e che si sarebbe nascosto tra i cespugli, mise i guanti mimetici davanti al viso, vide della gente camminare dritta verso i cespugli, sentì i soldati con le pistole che parlavano e camminavano intorno a lui e doveva rimanere perfettamente fermo. Per sei giorni si nascose, terrificato. Aveva cercato di dormire e di rimanere fermo durante il giorno. Circa a mezzanotte si era svegliato e aveva corso, cercando di andare sempre più lontano, cercando un luogo disabitato. Non aveva nemmeno comunicato via radio perché sapeva che avrebbero ascoltato la sua frequenza radio. Aveva raccolto l'acqua in una spugna e mangiato insetti e messo tutto il suo addestramento in pratica. Si può leggere dove dice in questo numero del Time la storia di un pilota. Ho pregato Dio e gli ho chiesto molte cose e mi ha guidato in tutto il tempo. Ogredi ha raccontato in un'intervista al Time, quando pregavo per la pioggia faceva piovere. Una volta ho pregato, signore fa che almeno qualcuno sappia che sono vivo e che possa venire a salvarmi. E sapete una cosa? Quella notte T.O., un compagno pilota di F-16, Thomas O. Hanford, venne alla radio. In quel momento Grady sapeva che la sua disavventura sarebbe arrivata alla fine. Quello che non sapeva era che si erano concentrati su di lui. Sapevano che era stato abbattuto e avevano mobilitato l'intera forza aerea americana. I Marines, la Nato, tutti erano preoccupati di salvare un soldato. Ecco quanto significa un soldato. E quando alla fine sono arrivati e sono corsi su per la collina, sapeva che avevano pochissimo tempo, i Marines erano arrivati con gli elicotteri, videro il suo fumo, atterrarono e lo presero. Ed egli fu così grato di essere stato preso e salvato dal territorio nemico. Beh, siamo qui da 6.000 anni. Gesù si è dimenticato di noi? No, siamo in territorio nemico. Se siete cristiani, siete cittadini di un altro regno. Amen? Ed egli non trascurerà la sua promessa. Cristo ci ha detto molto chiaramente, nella casa del Padre mio ci sono molte dimore. Se no, ve lo avrei detto. Io tornerò. È venuto la prima volta come aveva promesso. Verrà una seconda volta. Ci credete, amici? E vuole riportarci in un mondo dove non ci sono più dolore, male o sofferenza. L'unica cosa che conta in questa vita è conoscere Gesù e annunciare Gesù. Questo mondo non durerà. Voi e io ne conosciamo uno che durerà per sempre, che è meglio di qualsiasi cosa possiamo immaginare. Non è una favola, è una delle sole cose che sono vere. È il messaggio del Vangelo e dobbiamo portarlo nel mondo. Amen? Dobbiamo essere gente che crede nell'imminente venuta di Gesù e portare questa riforma, questo messaggio dei tre angeli al mondo negli ultimi giorni. Quanti di voi vogliono dire ora che finiamo? Pastore Doug, per la grazia di Dio voglio essere una di queste persone e voglio aiutare a annunciare quel messaggio.